Buonasera a tutti, io sono Gabriele Marazzi, ho una startup che si occupa di Connected Car, una società di consulenza informatica che viene dal mio percorso di freelance. Oggi abbiamo un SRL, siamo in tre e lavoriamo su diversi fronti. La startup è tutta quanta su Node, JS e JavaScript, precisamente su Meteor, così se c'è qualcuno che per caso usa Meteor ci farebbe piacere conoscerci e scambiare due chiacchiere. Oggi sono qua a chiacchierare un po' di Scrum perché la persona che avevamo invitato, che è uno dell'alart diciamo abbastanza più adatto di me magari a parlare di Scrum, non è potuto venire per cui ci provo, scusatemi e perdonatemi se magari dico qualche cosa che, anzi, correggetemi se sbaglio. Lo scopo di questo talk è semplicemente quello di dare qualche informazione, fornire un po' una cornice generale di quello che può essere la metodologia Scrum e magari farvi venire anche qualche curiosità o comunque cercare di instillare in voi la voglia di studiare, di scoprire di più. Magari chiedo a voi, chi di voi conosce Scrum o come minimo sa che cos'è? Quindi molti di voi magari si annoieranno perché sono cose che già conoscete. Chi è che invece lavora tutti i giorni con la metodologia Scrum? Sì, noi l'adottiamo. Ok, chi è che magari sarebbe interessato ad adottare la tecnologia Scrum per lavorare? Ok, vabbè, allora un minimo di senso questo talk che ce l'aveva, se no passavamo direttamente al prossimo. Diciamo, Scrum viene, come penso molti di voi sappiano, dal manifesto dello sviluppo Agile. Tendo a sottolineare dello sviluppo Agile, anche perché ho messo questo link Agile is Dead, che è di uno dei fondatori del manifesto Agile, che non vogliono appunto che si chiama l'Agile Manifesto, perché ormai la parola Agile è diventata un po' un brand, una cosa che serve a vendere e non veramente a migliorare i processi che poi portano a produrre software. E in quel link, che è il secondo, che sta sotto il link del manifesto Agile, c'è un video che spiega un po' questa cosa, lui è arrabbiato contro la, diciamo, commercializzazione di un po' tutto, in particolare del loro manifesto. Due minuti, un video, e poi vi farò qualche domanda, se si vede. Cornice, se per caso succede un errore o passo a un cioccolatino senza che l'avete lavorato, siete licenziate. No, questo è più facile, sì, possiamo fare l'avete, ok? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.